Non sarà a neve, a spezzare un albero Avessi finito sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio E mi manca la tua voce, ormai, ora che, ora che, ora che sei qui E sono qui, ci investiremo di vertigini E il tranquillo scorderà, con me la vita qua, dove viene? Angelo, qui ci vuole un forte applauso! Grazie, grazie Leonardo! Purtroppo Leonardo ci ha lasciato l'angelo Angelone Longo, da dove venite? A Cassino, Prozinone Settima zona anche voi, prima volta qui a Casarano? Sì, prima volta qui a Casarano, prima volta con questa macchina E con lei come la mediatrice, la seconda ma con questa la prima Jessica Longo Jessica Longo, non abbiamo tempo per sentirvi Grazie, in bocca al lupo E vi faccio dunque il numero 28 Loro forono con un appeso a 200 E... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.